Il McLewis Glamis 226 su Ford Transit, 155 CV, è un mansardato sotto i 7 metri e omologato per 6 persone in viaggio con 6 posti letto. La pianta presenta una disposizione classica con letto matrimoniale trasversale in coda, posto su grande garage a volume variabile manuale, che può trasportare anche uno scooter, mentre un altro matrimoniale, sempre pronto, si trova in mansarda. Il bagno compatto con lavabo e WC e box doccia separato è contrapposto al frigo con freezer interno e capiente cestello portabottiglie, affiancato al blocco cucina lineare con fornella due fuochi e lavello in acciaio inox, completo di pensili e cassettoni per lo stivaggio di stoviglie e utensili. La dinette con due divanetti contrapposti e tavolo centrale con supporto TV può ospitare 4 persone a tavola e all'occorrenza si può trasformare in un altro letto matrimoniale. La porta d'ingresso extra large con finestra è completa di zanzarie e di chiusura a due punti centralizzata, interni luminosi e ben areati grazie ad oblo e finestre. Presentano mobili o laccato lucido, tappezzerie e necopelle e tendi a pacchetto che rendono l'ambiente molto accogliente, illuminazione total LED, riscaldamento turma combi e centrali a comandi per i livelli delle acque e la temperatura. La cabina guida con climatizzatore manuale, airbag guidatore e passeggero, cruise control con limitatore di velocità, è dotata di oscuranti plissettati per garantire massima privacy all'interno del veicolo. Come tutta la gamma 200 Special Edition, anche il Glamis 226 ha di serie in retrocamera, pannello solare, cerchi in lega da 16 e paraolti anteriore verniciato. McLuis Glamis 226 Special Edition, il mansardato compatto per la famiglia.